Chi denuncia la camorra per racket o usura non pagherà le tasse comunali per tre anni. Accade a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, comune sciolto per collusione con la camorra nel 2009. Un segnale importante che, spiega il prefetto Cinzia Guercio, che guida l'amministrazione della cittadina, servirà a spronare un rientro nella legalità. Soprattutto per colui che è usurato o che è vittima di estorsioni, lo Stato è presente anche cercando di risarcirlo tra virgoletto e sotto il profilo tributario. Chiaramente è tutta una serie di presupposti, non è che si può fare una denuncia e improvvisamente poi ne consegue automaticamente l'esenzione dai tributi. No, ci deve essere tutta una certificazione da parte dell'autorità giudiziaria e quindi effettivamente un comportamento anche del beneficiario che non abbia denunciato l'usuraio e poi abbia pagato il cosiddetto pizzo. Secondo i commissari prefettizi di San Giuseppe Vesuviano, la malavita organizzata, che qui è riconducibile prevalentemente al clan Fabrocino, è penetrata così tanto nella vita del paese da esserne divenuta quasi una parte integrante. Per questo si è reso necessario un provvedimento forte e simbolico per sradicare la logica del racket dal tessuto economico della cittadina. E a chi teme che questa scelta svuoterà le casse comunali, il prefetto risponde con serenità. Abbiamo vari introiti, insomma. Non si preoccupassero i cittadini, è più importante che le estorsioni non avvengano più.